I carabinieri della compagnia di Mazzara nel fine settimana appena trascorso hanno svolto un servizio straordinario finalizzato a incrementare i controlli alla circolazione stradale, alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e al contrasto agli stupefacenti. Durante i controlli sono state identificate oltre 80 persone, sequestrate due autovetture, prive dei requisiti idonei alla circolazione, ed elevate nove contravvenzioni per violazione al codice della strada. Tra le persone sottoposte a controllo, due sono state segnalate alla prefettura di Trapani perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre sono stati denunciati in stato di libertà un cinquantenne del luogo e un 26enne di nazionalità straniera, trovati rispettivamente in possesso nella propria autovettura di un tubo in polietilene e di una barra metallica di circa un metro con impugnature artigianali per porto di armi e oggetti atti a offendere. Un 41enne salemitano trovato all'interno di un esercizio commerciale in violazione del divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e dei locali di pubblico intrattenimento, Dacur, cui era sottoposto nel comune di Salemi. E ancora un 38enne trovato nei pressi dell'abitazione della coniuge in violazione del provvedimento del divieto di avvicinamento a cui era sottoposto. Grazie. 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 Grazie.